E' una lotta per consentire ai braccianti di uscire dal ghetto in cui sono stati consentiti a vivere per anni. Schiavi mai! Lo hanno gridato più e più volte i braccianti agricoli che da Venosa sono arrivati davanti la sede della regione basilicata a potenza in catene, simbolo di una lotta per i diritti portata avanti insieme al sindacato USB. Dopo lo sgombero in località boreano dove vivevano accampati una trentina di lavoratori stagionali, ospitati poi nel centro di accoglienza allestito sul territorio di Venosa, la risposta di chi è stanco di quella che definiscono una presa in giro da parte dei paladini della legalità, che hanno sottolineato i manifestanti, fanno convegni sul caporalato senza però fare nulla di concreto per garantire i diritti di chi lavora nei campi, anche 12 ore sotto al sole per raccogliere le primizie italiane. Una delegazione di manifestanti è stata poi ricevuta dal governatore lucano Marcello Pittella, che ha ascoltato le denunce dell'USB. Siamo qui per protestare contro le cose raccontate dalla Croce Rossa che non sono vere, siamo qui per lavorare ma non per fare un lavoro sporco, quindi chiediamo alla sostituzione che la nostra condizione di vita sia migliorata. Hanno mandato le ruspe dell'intimidazione a sgomberare l'insediamento di Boreano. Noi non abbiamo mai difeso Boreano. Quello che noi abbiamo chiesto è che vogliamo la fine di Boreano e nemmeno vogliamo andare a vivere dentro un altro ghetto che, come oggi, l'escartiera, che è uno spreco di danaro pubblico, dove i diritti sindacali, i diritti abitativi, non c'è nulla. E questo è un problema. Grazie a tutti